Dall'inizio dell'anno ho intenzione al mio ristorante di far pagare 2 euro agli amici a quattro zampe. L'ultima sparata del sindaco sceriffo, far pagare il coperto ai cani nel suo ristorante. Questo videomessaggio inviato da Gio Formaggio a Rete Veneta aveva fatto il Giro d'Italia. Credo che anche i cani che entrano in un ristorante, se accettati, debbano pagare il coperto come lo facciamo noi umani. Anche perché bisogna pulire, bisogna disinfettare e certe volte non è che sia tanto bello avere un cane all'interno di un ristorante mentre si sta mangiando. Una notizia lanciata da Rete Veneta e ripresa da agenzie di stampa, giornali, televisioni. Ogni discussione si è poi spenta con la fine del 2018, neanche per sogno, anno nuovo, polemica nuova. Oggi diverse testate riportano che Gio Formaggio, se gli animalisti andassero a contestarlo nel suo locale, sarebbe pronto addirittura a sparare col fucile. Ora che un provocatore professionista come il sindaco di Albettone accoglierebbe col fucile i malfattori che entrano nelle case della brava gente, beh, lo ha già detto e ripetuto tante volte, ma che possa riservare lo stesso trattamento agli animalisti è decisamente poco credibile. E lui, chiamato a rivelare la verità, sceglie ancora una volta Rete Veneta. Ecco il video messaggio che ha inviato a noi del Tg Vicenza. Cari amici di Rete Veneta, in questi istanti la stampa sta dicendo che il sindaco di Albettone spara agli ambientalisti. Assolutamente niente di più falso. Ho semplicemente risposto a chi mi chiedeva ma se gli ambientalisti o altra gente di notte viene a disturbare a casa tua, a fare altri atti vandalici. Io ho semplicemente detto, uno, che gli ambientalisti non lo faranno perché io ho un cane, amo i cani e automaticamente i due euro di coperto sono per continuare a permettere ai cani di entrare al ristorante. Se accettati, insomma, se non di grossa taglia e come ho già ribadito che siano puliti e rispettino soprattutto i clienti perché sono quelli che mi danno da vivere, non i cani. Beh, per quanto riguarda quello che ho detto, ho semplicemente detto che se vengo disturbato di notte io sono abituato a uscire con il fucile. Però non sparo mica a nessuno, non è che sparo a vista, chiedo che cosa vogliono e che mi dicano cosa vogliono e perché vengono di notte. Tutto qua. Quindi state tranquilli che il sindaco di Albettone non spara assolutamente a nessuno. Ciao amici di Rete Veneta.